Segnali preoccupanti per il commercio della provincia dell'Aquila mentre prova a resistere il settore turismo. Secondo il rilevamento confe esercenti sui primi 10 mesi del 2013, infatti le principali voci del terziario aquilano mostrano segni di forte debolezza sul fronte numerico, nonostante le nuove aperture con picchi nei settori più innovativi. Rispetto allo stesso periodo del 2012 in provincia la variazione percentuale delle imprese registrate segna una flessione dell'1,5% in provincia e dello 0,4% in città a fronte di una media nazionale del meno 0,6% di una media regionale che evidenzia un timido segno positivo più 0,2%. Nel dettaglio delle categorie merceologiche perde terreno la voce più numerosa, quella del settore abbigliamento e calzature, 818 imprese attive con una contrazione secca del 2% fra l'ottobre del 2013 e l'ottobre del 2012 in provincia e della metà nel capoluogo. Stabile il numero delle 388 attività recettive di fronte ad un incremento nazionale del 4,1% mentre cresce il suo indotto specie nel settore food, più 5,6% in città il volume delle attività collegate a barra, enoteche, ebrierie, più 12,5% le rivendite di carni lavorate, più 11,1% i negozi di ortofrutte, più 2,7% i ristoranti. Cresce poco oltre la media nazionale invece il fenomeno delle sigarette elettroniche con un più 27,3% e vola l'e-commerce che in città segna un più 36,4%. L'assenza di alternative spinge sempre più giovani a sperimentare l'autoimpresa nei settori più innovativi spiegano il presidente provinciale di Confesercenti Domenico Venditti e il direttore Carlo Rossi e per questa ragione l'indotto del turismo si dimostra sempre più come un'opportunità da cogliere senza tentennamenti. I dati della provincia sono più negativi della città che ha già pagato il suo prezzo alla crisi ed al terremoto. Le istituzioni continuano, devono ora comprendere che il peso della piccola impresa è destinato a crescere. Noi, concludono Venditti e Rossi, abbiamo strutturato nelle nostre sedi dell'Aquila, Vezzone e Sulmona un team che assieme alle cooperative di garanzia riesce a dare ai piccoli imprenditori e ai nuovi imprenditori tutte le risposte per la nascita delle attività e soprattutto per salvaguardarle una volta aperta la sala cinesca che è poi il lavoro più duro.